mostruoso oh wow mostruoso eccoci qua ragazzi come avete letto dal titolo oggi il nuovo format visto da Giovanni Fois mangio quello che voglio per 24 ore quindi adesso stiamo andando sulla Toscolana a un negozio che vende alimenti tipici americani ma prima di lasciarvi al video ragazzi vi voglio dire prossima settimana 5 febbraio al Venator vi porterò con me combatte Pierluigi quindi tanta roba e se ci riusciamo all'evento UFC a Londra in cui combatte Martin Vettori e niente ragazzi vi lascio qui in alto le icone con le date e adesso ragazzi andiamo a comprare la roba da mangiare e andiamo a fare il nostro cheat day abbiamo comprato un po' abbiamo speso 16 euro dai andiamo di Twix assaggiamo carini vado eh wow buone dai niente di che buone vabbè buono cookies duretto però penso che sia il freddo che dici dentro c'è questa crema quasi tipo marmellada albicocca è buono non è niente di speciale io vi do l'interno sto a dividere a 7 su 10 eh ragazzi prima di assaggiare altre cose siccome è ora di pranzo andiamo a tirare la brioche ci vediamo lì dai ragazzi il panino che piano di solito non c'era mi sono preso questa mega pizza fritta con pomodoro e burrata assaggiamo insieme tanta roba tanta roba è un po' difficile mangiarla quindi fermo il video però ragazzi è buonissima anche lei conferma? si è molto buono io direi un bel 9 e mezzo 9 e mezzo esagerata da 9 e mezzo quasi alla perfezione però un 8 e mezzo se lo porto a casa tranquillamente adesso però ragazzi andiamo con la cosa più buona la cosa per il quale sono venuto qui questo ragazzi 9 e mezzo così diretto 9 e mezzo mostruoso crema di kindercelli con dentro i risosofiani mostruoso tanta roba poi se ci pensate ragazzi ho pagato 9 euro due pizze fritte col sugo e la burrata la brioche ripiena e l'acqua ora noi torniamo a casa e tra poco facciamo le altre cose che abbiamo comprato prima dai voglio assaggiare il riso questo ho pagato 2,99 mi sembra oltre il 99 comunque metto il prezzo qui in alto oh wow assaggiamo subito sicuramente non è cattivo sa di nocciolina la cioccolata non si sente nocciolina e consistenza tipo wafer ma buono manca questo direi 7,7 e mezzo eccoci qua ragazzi siamo arrivati a casa quindi andiamo assaggiare subito le altre cose quindi andiamo subito con questi presi in un negozio di alimentari che vendiva cose cinesi ci ho visto molti video su TikTok quindi lo assaggiamo e poi ragazzi questa bibita gusto chupa chups bubble gum vado l'odore non promette bene è dolce ma con un retrogusto amaro non è che ti fa schifo quando dici neanche buona oddio me la compro quindi niente gli te la è un 5 5 su 10 niente assaggiamolo l'odore è fortissimo molto 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 unto andiamo con l'assaggio non è male ah pizzica tantissimo a parte che è molto piccante è buono il sapore ragazzi è piccantissimo porca miseria penso che a chi piace il piccante il sapore è anche buono quindi so giudicarlo ma sicuramente è un voto positivo sia a questo punto assaggiare anche il Kinder Duo eh ragazzi questo promette bene eh assaggiamo ragazzi questo è buonissimo 8 sicuro forse anche 8 e mezzo ragazzi questo video termina qua io spero vi sia piaciuto abbiamo visto un po' di cose da mangiare nuove noi ci vediamo in un prossimo video mi raccomando ragazzi per supportare il canale come sempre lasciate un like un commento e un'iscrizione a me fa solo il piacere io vi ringrazio ci vediamo in un prossimo video bye ciao 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 I can hear the demons call